Questo è un ballo molto diffuso nel Campidano, un ballo che non trova uguale in altre parti della Sardegna io ho avuto modo di apprezzarlo in diverse circostanze, in diverse sagre, in diverse manifestazioni riteniamo sia un ballo, anche questo piuttosto coreografato, che abbia senz'altro una caratteristica di buon auspicio appunto una stella che sia in qualche modo promotrice di qualcosa di valido A voi il gruppo nel su Ballo e Cistella Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.